Malat, perché? Latte Parmalat? Lo prendeva mia madre. Io ci sono cresciuta e a lui piace tanto. Il latte è davvero importante e per loro solo il meglio va bene. E se la sesta flotta lo sceglie, Parmalat deve essere molto buono. Per i suoi standard di qualità applicati nel mondo, latte Parmalat, qualità senza confini. Grazie.